Ciao ragazzi, bentrovati con le super offerte Criluma, quest'oggi rilanciamo l'offerta della settimana scorsa, ultimi due posti però non ve le lasciate sfuggire Eden Village Watamu, partenza il 30 di novembre dall'aeroporto di Milano, Eden Village Watamu, volo, trasferimento, assicurazione, formula soft all inclusive tutto compreso in una bellissima spiaggia di Watamu e soprattutto in una bellissima nazione che è il Kenya dove potrete fare mare, safari, potete immergervi anche nella loro cultura e veramente ritornare cantando la mitica Jumbo